Firmato il protocollo d'intesa tra la Regione e la Camera di Commercio Chieti-Pescara, volto alla valorizzazione della filiera agroalimentare. Al momento non c'è ancora un cronoprogramma, né un budget definito, ma verranno disposti dei bandi di gara accessibili alle imprese che riterranno opportuno partecipare. È un'operazione di marketing volta a promuovere le eccellenze abruzzesi, spiega l'assessore Imprudente. Stiamo pensando già ciò che dovrà essere l'azione di rilancio, quindi oggi stiamo costruendo un percorso insieme alla Camera di Commercio importante, fondamentale, una novità assoluta, mettiamo insieme sinergia, idee, strategie comuni per avere una visione unica dell'Abruzzo, per costruire quello che dovrà essere il marketing territoriale, per quello che dovrà essere il know-how, per quello che dovrà essere l'encambio, per quello che dovrà essere la promozione e la formazione del sistema agricolo abruzzese e mettere davanti a tutto quello che è il brand Abruzzo e quello che può significare la crescita complessiva di un settore, quello che è alimentare, che ha oggettivamente delle potenziali enormi. Racchiuderle dentro questo concetto in una possibilità di promozione che vada oltre il valore della qualità dei nostri prodotti, che sono unici e indispensabili, ma che possono identificare e promuovere un territorio. Obiettivo quindi è quello di far conoscere i prodotti abruzzesi anche al di fuori dei confini regionali, partecipando alle più importanti fiere e manifestazioni nazionali, ma con l'intento di sbarcare e affermarsi anche sui mercati esteri. La novità è che ora la strategia di promozione del territorio sarà pensata in concerto con l'ente camerale. Mi aspetto che anche la neonata Camera del Gran Sasso aderisca presto al progetto. Questo l'invito del presidente Strever, rivolto all'ente nato dalla fusione della Camera di Commercio di Teramo e di quella dell'Aquila. L'intento è che noi con questo accordo con l'assessorato regionale faremo insieme uno studio per sviluppare possibili nuovi mercati, tendiamo all'internazionalizzazione delle nostre imprese, a fiere, workshop, e tutto ciò che può aumentare il mercato e la conoscenza delle nostre imprese fuori dal territorio, noi ce la mettiamo tutta.